una serata da dimenticare nicolo zaniolo durante il derby dei giallorossi del galatasaray contro l'insalbursport perde la testa l'ex romanista entrato al 69esimo con il galatasaray in vantaggio 1 a 0 grazie ai cardi che segna sui ricori prima dell'intervallo appena sei minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco al 75esimo zaniolo è stato primo ammonito per una entrataccia su un avversario e poi espulso dopo la revisione delle immagini alvar da parte dell'arbitro sei minuti in campo e rosso diretto a questo punto zaniolo ha perso la testa uscendo dal campo colpisce con un calcio e un pugno la parete del tunnel per raggiungere poi gli spogliatoi la gara è finita 2 a 0 over il gala che ha raddoppiato nel finale ancora con l'ex interista i cardi